ciao ragazzi benvenuti alla nuova puntata di leak of the week la mia rubrica dedicata allo studio del fraseggio e dell'improvvisazione in questa serie di cinque puntate vi voglio parlare dei leak più strausati e che hanno in comune una sola scala la scala pentatonica dei leak facili e fantastici da suonare nelle vostre improvvisazioni prima di vedere però il primo leak mi raccomando iscriviti al canale youtube e attiva la campanella per ricevere le notifiche sulle prossime pubblicazioni andiamo il primo leak strausato è nel linguaggio di jimmy page van allen zach wilde e non è così difficile come può sembrare ad un primo ascolto si muove sulla pentatonica di la minore al quinto tasto primo box ripassiamo lo schema la caratteristica di questa frase è la combinazione di gruppi di tre note per chi non le conoscesse i gruppi sono delle sequenze di note ripetute in senso ascendente o discendente ed eseguite dei solito in velocità suoneremo tre note consecutive della scala pentatonica di la minore la nota do all'ottavo tasto della prima corda la nota la al quinto tasto sempre della prima corda e poi il sol sulla seconda corda all'ottavo tasto fa attenzione allegato discendente tra le prime due note ora suoneremo il successivo gruppo di tre note sempre in senso discendente partendo questa volta però dalla nota la quinto tasto della prima corda poi andremo a suonare di nuovo il sol all'ottavo tasto della seconda e aggiungeremo la nota mi sulla seconda corda al quinto tasto completando così il secondo gruppo nota sempre il legato discendente tra il sol e il mi proviamo quindi a suonare i primi due gruppi a portarli in velocità ora non faremo altro che seguire i successivi gruppi sempre in senso discendente partiremo questa volta dalla nota sol e non faremo altro che suonare le successive due note discendente della pentatonica andiamo avanti adesso partendo dalla nota mi poi dalla nota re poi dalla nota do poi dalla nota la dalla nota sol dalla nota mi dalla nota re e concluderemo poi sui la vibrando suoniamo ancora tutto lentamente ti ricordo che se fai parte della mia community puoi scaricare la tablatura completa basta entrare con la tua username e password nell'area riservata i gruppi sono molto importanti anche per sviluppare la coordinazione tra le due mani e sviluppare la tecnica studiali quindi lentamente occhio alla pennata ai legati discendenti e se poi vuoi approfondirli ne ho parlato nel mio corso di chitarra rock solista in tre volumi ti lascio il link qui sopra e in descrizione bene esercitati su questo leak stra usato studialo prima lentamente magari con il metronomo poi portalo a velocità e cerca di inserirlo nelle tue improvvisazioni fammi sapere quindi cosa ne pensi con un commento se il video ti è piaciuto mi raccomando clicca mi piace doppio mi piace condividi il video con gli amici iscriviti al mio gruppo facebook professione chitarrista ti lascio sempre il link in descrizione e aiutami a crescere con il canale youtube cliccando il pulsante qui sotto ed attivando la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video noi ci vediamo con il prossimo link of the week ciao e buona musica ciao Grazie a tutti.